Giovedì 12 dicembre il Liceo Bonghi Rosmini di Lucera ha dato seguito all'iniziativa Adotta un albero. Il progetto prevede l'adozione e la cura di alberi da parte degli alunni per cercare di compensare le emissioni di anitride carbonica prodotte dalle azioni quotidiane. Alla presenza dei ragazzi di terza media delle scuole secondarie di primo grado di Lucera e dei dirigenti scolastici, gli alunni hanno messo a dimora 70 alberi nel giardino interno del plesso Bonghi. Con questa iniziativa il Liceo Bonghi Rosmini di Lucera orienta così i giovani verso una sensibilizzazione al cambiamento.